Sono molto soddisfatto. Il centrodestra, nelle sue componenti storiche, Forza Italia e la Lega Fratelli d'Italia, alle quali oggi si è unito noi con l'Italia Udc, ha concordato e firmato un approfondito programma di governo che cambierà radicalmente l'Italia nei prossimi cinque anni. Uniti si vince e la nostra sarà un'autentica rivoluzione liberale, positiva, costruttiva, basata sulla concretezza di obiettivi realizzabili, basata sull'ambizione di far ripartire l'Italia. L'assoluta priorità sarà la riforma fiscale, che attraverso la Flac Tax ridurrà le imposte, semplificherà il sistema tributario, consentirà l'eliminazione delle tasse sulla prima casa, sulla prima auto, sulle donazioni, sulla successione e ridurrà in modo molto consistente l'evasione e l'elusione fiscale. Si tratta della realizzazione di quella che è dovunque chiamata equazione dello sviluppo e del benessere, che ha avuto successo dovunque sia stata realizzata, con meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro, che producono più consumi delle famiglie, più produzione e più investimenti delle imprese e più posti di lavoro. I primi provvedimenti del nostro governo saranno appunto quelli per la creazione di posti di lavoro stabili con la decontribuzione dei contratti di apprendistato e di primo impiego, soprattutto per i giovani, e quelli per un vigoroso contrasto alla povertà, con il reddito di dignità per i più deboli e l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro, anche per le nostre mamme. È un programma che nasce dalla consultazione di migliaia di elettori, in particolare anche di cittadini che avevano deciso di non votare. Un programma che ci consentirà di garantire all'Italia cinque anni di buon governo, di stabilità, cinque anni di crescita e di sicurezza con la piena tutela della famiglia, la piena tutela della nostra cultura e della nostra identità.